E si è svolta a Barletta la cerimonia di premiazione delle stelle al merito spottivo organizzato dal Comitato regionale del CONI, Luca Ciciriello. Che cosa significa per te ricevere questa onorificenza? Un appuntamento annuale, quindi essere qui comunque ogni anno da un po' di anni è sicuramente una grande soddisfazione, vuol dire che è passato un anno dove hai ben lavorato, dove hai portato a casa degli ottimi risultati che vengono riconosciuti a livello pugliese, quindi può essere solo una grande soddisfazione. Quanto è importante per un ragazzo lo sport? Per me è stato fondamentale, sia nelle belle e nei brutti momenti è stato fondamentale perché ti fa vivere vero, lo sport è tanto sacrificio soprattutto fatto a questi livelli, ti toglie via tanto tempo che i miei coetanei possono dedicare a star tranquilli o a divertirsi. Quindi è sicuramente tanto sacrificio, però posso anche dire che le soddisfazioni che ti porta lo sport alla fine quando vai a fare il quadro generale della situazione sono imparagonabili. Quindi per me è stato fondamentale, ma penso che comunque per la crescita soprattutto da bambini sia importante. La nostra regione sta producendo davvero tanto a livello sportivo e sicuramente questo fa ben sperare anche per il futuro, per il prosiego. Noi poi nella nostra sesta provincia, piccola per superficie e territorialità, diciamo che possiamo esprimere anche delle belle certezze già a livello sportivo e siamo convinti che queste certezze probabilmente riusciranno anche a fare il viaggio oltreoceano e ci regaleranno emozioni e soddisfazioni. Il problema delle strutture è un problema cronico che naturalmente anche la regione Puglia sta cercando in questi anni di ovviare con una serie di finanziamenti a cui le amministrazioni pubbliche stanno pian piano partecipando, soprattutto quelli che prevedono la ristrutturazione di impianti che magari ci sono e che non vengono utilizzati. È chiaro che c'è ancora parecchio, tanto da fare, soprattutto qui nella nostra zona. Però qualcosa si sta già muovendo, basta vedere anche le ultime inaugurazioni dell'impianto di Trinitapoli, di quello di San Ferdinando, a Biceglie solo un paio d'anni fa, era stato rifatto e rimesso a nuovo anche il Diliddo. Ci sono delle strutture che effettivamente cominciano a vedere la luce, però c'è ancora tanto da fare.